L'Abifol Movical Prodotto di alta tecnologia per fornire un apporto di calcio più assimilabile ed efficiente, per via fogliare e radicale. Il calcio è un elemento essenziale per il corretto sviluppo delle colture, ma presenta una scarsa mobilità all'interno della pianta, con un lento movimento nell'oxilema e con un movimento nullo nel floema, procurando uno scarso contenuto di calcio nel frutto. Questa carenza di calcio comporta una minor qualità dei frutti, minor durezza, peggior conservazione post-raccolta. Con l'Abifol Movical e la tecnologia Lab in Smart Tech siamo riusciti a complessare il calcio e a renderlo al 100% riconoscibile dalla pianta, facilitando la corretta penetrazione ed aumentando la sua mobilità, con alcuni risultati visibili nel frutto, maggior resistenza e durezza, migliorando il comportamento post-raccolta. Casi di successo Nel caso della fragola, migliora considerevolmente la conservazione post-raccolta, grazie all'ottenimento di una maggior resistenza e durezza del frutto. Con il miglioramento della durezza del frutto, riduciamo notevolmente le problematiche come la botrite, su vite e colture orticole, e riduciamo il rischio di fisiopatie, come butteratura amara su melo, marciume apicale su pomodoro. L'Abifol Movical è compatibile con altri prodotti Labin, per ottenere risultati e sinergie ancora migliori. Nel caso della combinazione con l'Abisinergic, può essere alternato in fertirrigazione con l'Abisinergic, per avere una migliore conservazione post-raccolta e diminuire il rischio di infezione dell'ammonilia sul pesco. L'Abifol Movical, l'apporto ottimale di calcio.